Una gara che può riaprire un pezzo di campionato dal Palaiper di Monza, vero volley, exprivia nel diritto Molfetta, Rodolfo Palermo e Luca Tagliavua al microfono. Ultimo scambio prima del time out tecnico, Andrea Gagliani a servizio, la ricezione del vecchio risuola, accelera per Elia Bossi, palla che cade praticamente in verticale, gran colpo. Sulle mani di Gagliani, Iovovic per Botto, diagonale strettissima, quasi dentro i tre metri, passa in mezzo alle gambe di Cesare Romiti, finisce qua a 25-21 sul diagonale di Jacopo Botto. In battuta lo stesso Elia Bossi, la ricezione di Bonetti, Iovovic al salto all'indietro per Padura Diaz, smarcatissimo, ancora una gran palla di Iovovic. Padura Diaz non può che chiuderla così, con un mani fuori. Qua al servizio, la ricezione di Depandes, cos'è che dicevi, cosa bisogna fare quando si rietra in time out, non sbagliare? E qui non sbaglia proprio il Resuelo, sembra completamente entrato in una situazione mistica, adesso vediamo se continuerà questo martellare incessante di battute, tra l'altro una più forte dell'altra. Ancora il Resuelo, terzo ace consecutivo. La ricezione di Bonetti, fate pure quattro. Padua Dio non sa che salto appellarsi, chiede addirittura un video check. Chiude qua il... Il secondo set, se lo aggiungono il fetta, 22-25. La battuta ai Torres, la ricezione di Botto, poi Iovovic al centro per Vigil Gonzales, fulminato del vecchio. E l'Asturiano manda le squadre a sedersi in panchina sul time out tecnico con i monzesi avanti 12-10. È un errore ed è quello che chiude questo terzo set sul punteggio di 19-25 per Molfetta. Lei, senza no, salva Iovovic sulla ricezione sbagliata di Gagliani, possibilità per... Molfetta con la pipe dischetta. E mister Fantastic. Battuta al salto per lui, la va a piazzare sulle mani di Romiti. Gli risvelo facile all'indietro per Torres. Un po' dimenticato, il pallonetto sembrava fuori. Chiamata dentro dagli arbitri, 20-22, il pallonetto di Torres. Il missile con l'aiuto della rete del vecchio però riceve, poi Schett dalla seconda linea. Mette a terra la palla e finisce qua. 3-1 Molfetta. Grazie.